ciao a tutti oggi prepariamo una ricetta velocissima facilissima e soprattutto buonissima e pronta in poco tempo il bodino di fragole vi do gli ingredienti per quattro persone 500 600 grammi di fragole io le ho già anche tagliate del succo di limone ne basterà un cucchiaio 40 grammi di maizena l'amido di mais e infine ma non per ultimo lui il nostro ingrediente segreto procediamo ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti qui sotto nella descrizione basta cliccare su altro e vi invito a visitare il mio canale youtube ed iscrivervi è gratis così non vi perderete neanche una ricetta e ne troverete altre centinaia al lavoro visto che le fragole sono già tagliate 4 le teniamo poi per decorare le coppette non ci resterà che spremere il limone mettiamo le fragole in un frullatore aggiungiamo un bicchiere d'acqua scarso e frulliamo il tutto nel frattempo diluiamo anche la maizena con un pochino di acqua giusto perché si sciolga direi quasi mezzo bicchiere e aggiungiamo anche lui il nostro ingrediente segreto gli diamo una mescolata e poi lo mettiamo da parte per dopo versiamo in una casseruola al nostro frullato di fragole aggiungiamo il miscuglione gli diamo una bella mescolata e fuoca le polveri dobbiamo cuocerlo a fuoco medio basso mescolando di continuo perché non si attacchi e non si formino grumi ma ci vorranno veramente pochissimi minuti quando comincerà a raddensarsi però bisogna abbassare il fuoco al minimo e non appena si sarà raddensata deve raggiungere la consistenza di una crema pasticcera praticamente la versiamo nelle coppetta negli stampini e la facciamo raffreddare e una volta che si sarà raffreddato lo metteremo in frigo almeno un paio d'ore ed ecco pronto il nostro golosissimo dessert e a questo punto vi svelerò l'ingrediente segreto è un cucchiaino di stevia che toglierà un po di acidità alla fragola buon appetito e mi raccomando condividete la ricetta con chi vuole perdere peso ma non vuole fare troppa fatica ciao al prossimo video